È una data simbolica che ricorre nel mese di giugno in occasione della concessione della prima medaglia d'oro all'arma dei carabinieri che festeggia oggi 207 anni di lavoro, di controllo del territorio, di attenzione alla sicurezza dei cittadini. Anche a Cremona si sono tenute le celebrazioni in modo contenuto a suggellare l'importanza di questa ricorrenza. Oggi è una giornata importante per due motivi. Il primo per la festa in sé, per il secondo perché è il primo compleanno che noi festeggiamo in un momento di uscita da un annus horribilis, da un anno che ha visto tutti, cittadini e istituzioni, impegnati per fronteggiare una pandemia che è stata terribilmente coinvolgente per tutte le parti in causa. Non è stato possibile condividere questo momento di festa con la comunità, con coloro che sono l'obiettivo principale del lavoro dei carabinieri, i cittadini. Questo è un aspetto che viene sempre rinnovato. Il fatto di essere un'istituzione vicina al cittadino. È fondamentale per noi portare un messaggio di vicinanza come è stato fatto proprio nei momenti difficili dello scorso anno. Tra l'emergenza e le varie attività sul territorio, per il comandante provinciale a Cremona da otto mesi, sono stati momenti molto intensi. Possiamo citare l'ultima indagine svolta dal nucleo operativo della compagnia di Cremona, che ha consentito di arrestare 12 persone responsabili di furti, ricettazioni, riciclaggio di veicoli e parti di veicoli che venivano rivendute in tutta Europa e nel continente africano. E tanti, tanti piccoli episodi, soprattutto per il contrasto a quella microcriminalità, che vanno a essere un neo per una città di questo tipo, come per esempio lo spaccio delle sostanze stupefacenti, come per esempio i reati predatori ai danni delle persone e delle cose. È proprio per questo che non allenteremo la guardia, tanto più in un'estate che si preannuncia positiva, favorevole e in cui il nostro operato sarà sempre e comunque al servizio del cittadino e al loro vicino.